Sarà Francesca di Temptation Island la nuova tronista di Uomini e Donne? Prima di iniziare vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina, così non vi perderete nemmeno un aggiornamento. Benvenuti, cari amici, su Amica Gossip, il vostro canale preferito per le notizie più scottanti e i pettegolezzi più intriganti. Oggi vi porteremo tutte le ultime novità sulla nuova stagione di Uomini e Donne e sui potenziali nuovi tronisti. Cominciamo con una giovane e affascinante protagonista, Francesca Sorrentino, la ragazza che ha conquistato tutti a Temptation Island. Dopo aver concluso la sua relazione con Manuel Maura, Francesca è stata avvistata negli studi di Uomini e Donne. Ora, la domanda è, sarà lei una delle prossime troniste della nuova edizione? Incrociamo le dita e speriamo proprio di sì! Ma Francesca non è l'unica candidata per il trono. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Fuadel Shafie e Davide Blanda, già noti come tentatori a Temptation Island. E Alice Barisciani, ex corteggiatrice della scorsa stagione. L'entusiasmo cresce e i fan del programma non vedono l'ora di scoprire chi sarà il prescelto per il trono. Ancora tutto è avvolto nel mistero, ma non possiamo fare a meno di immaginare le sorprese che Maria De Filippi ha in serbo per noi. Tornando a Francesca, durante il suo percorso a Temptation Island, ha compreso l'importanza di un amore vero, e ora vuole solo il meglio. Sarà pronta a dare una seconda possibilità all'amore nel trono di uomini e donne? Staremo con il fiato sospeso per scoprirlo. Vi invitiamo, nel frattempo, a condividere questo entusiasmante video su tutti i vostri social preferiti e a lasciarci un bel mi piace se il contenuto vi ha appassionato. E ora, veniamo a voi. Quale dei potenziali tronisti vorreste vedere nella prossima edizione? Scriveteci la vostra risposta nei commenti. Ma non è tutto, perché c'è ancora un'ultima notizia da svelarvi. Una riunione dopo Temptation Island. Le fidanzate e i tentatori si sono riuniti in discoteca per una serata di puro divertimento. Non perdete le foto delle loro risate e della loro complicità, e fateci sapere cosa ne pensate. Grazie di cuore per averci accompagnato, continuate a seguirci su Amica Gossip per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie e i gossip più succulenti. Vi aspettiamo al prossimo video, ciao!